Siringhe, carta insanguinata, involucri e resti di eroina e anche un flacone da un litro di metadone. Paolo Massenzi, presidente dello spazio Recuperiamoci in via Cironi, ha documentato una situazione agghiacciante. Un video shock girato ai giardini dell'asilo del Campino. Mertosi. Che fa? Cioè guarda. No, sono sì. Io oggi sono venuto con la lorella. 20 anni di tossico dipendenza. Tutto sto sangue. Tutto sto sangue. Non ho mai visto. Incontrando la stampa Massenzi indossa guanti bianchi e toglie da un secchio una dopo l'altra le siringhe raccolte da via Cironi a via San Giorgio fino alla passerella e ai giardini dell'asilo del Campino. Resti di un traffico di droga che ha superato i confini cittadini e che tra i confini cittadini ha violato anche i luoghi più sacri, quelli dei bambini. Le immagini riprese sono state girate da Massenzi e da alcuni che lo aiutano nell'associazione, tra cui dei ragazzi ex tossicodipendenti, a 20 metri o poco più, dai giardini dell'asilo del Campino. È l'ora di finirla, di parlare chiusi in un palazzo. Questa è la realtà e sta sfuggendo di mano anche agli operatori sanitari, commenta. Mentre Massenzi aspetta che le piccole cose che ha suggerito all'amministrazione a costo zero per riprendere in mano la zona siano prese in considerazione, tra cui ad esempio delle luci antibuco all'asilo del Campino e sacchi raccolti per le siringhe, ha promesso che continuerà a sbattere in faccia la realtà a chi finge di non vedere. Creare un dibattito, organizzare un seminario con le forze dell'ordine e la magistratura. Intanto andiamo avanti con i nostri mezzi. Faremo un cartello e lo attaccheremo al Campino per indicare ai tossici che lì c'è un asilo. Luci e un riassetto dell'area non serviranno ad abbassare le percentuali in crescita di tossicodipendenza a Prato, ma almeno non nei luoghi dei bambini.